Un anno intenso, quello dei 177 agenti del corpo della polizia locale di Rimini e dei loro 18 ufficiali sul fronte della sicurezza urbana, dalle strade al commercio. Il 2019 ha visto un netto aumento delle telecamere in città, sia quelle che sorvegliano i punti nevralgici, circa un centinaio, sia quelle che rilevano le infrazioni delle automobili. I controlli nelle aree degradate hanno portato a 24 arresti, mentre sono state 181 le sanzioni relative all'ambito della prostituzione. Ad essere nettamente diminuito è il fenomeno dei pallinari, duramente colpiti nell'estate del 2018 da un'importante operazione che aveva portato a 12 arresti. Sono l'eccesso di velocità e il passaggio con il rosso a confermarsi come due caratteristiche del territorio riminese. Nonostante l'aumento di autovelox e di sistemi vista red, questi tipi di violazioni non accennano a diminuire e sono state più di 51.000 l'anno scorso. Si va veloce soprattutto in via Settembrini e in via Uterpe. In un anno 8.693 veicoli sono passati con il rosso nei cinque incroci controllati. E gli incidenti stradali? Sono stati 1.425 quelli rilevati dalla polizia locale. In 40 casi si è proceduto per guida in stato di ebbrezza, in 55 per omissione di soccorso, in 8 per omicidio stradale. Da segnalare anche il raddoppio delle persone sorprese con il telefono alla guida, salite a 550 nel 2019. La distrazione alla guida, ricorre all'Istat, è la prima causa di incidenti stradali in Italia. Anche l'attività amministrativa è stata estesa. Il controllo sulla vendita abusiva di alcolici ha portato a un'ottantina di sanzioni, altrettante per l'occupazione di suolo pubblico.